La mostra segue un ordine cronologico, quindi inizia dagli anni 50 fino ai progetti più recenti del 2012. In mostra abbiamo presentato sia oggetti di design sia progetti di architettura. In particolare per quanto riguarda il design abbiamo dato spazio ai tavoli. I tavoli sono stati per Mangiarotti a partire dagli anni 70 una costante, in particolare la lavorazione del marmo. Il tavolo è un elemento che coniuga le idee e la filosofia di Mangiarotti perché ha in sé da un lato la ricerca dei materiali, di cui l'architetto è sempre stato in prima linea, e dall'altro uno studio sugli equilibri, sulla gravità e sull'incastro. Questi tavoli infatti sono realizzati tutti con o marmo o pietra, quindi elementi nel senso che solitamente sono associati alla pesantezza. Qui invece vengono espressi nella loro più completa eleganza e leggerezza, proprio perché il disegno fa sì che tutto si basi sullo studio dell'equilibrio e della gravità. Per cui i tavoli che sono appunto di marmo, a uno sguardo esterno invece risultano assolutamente leggeri, delle linee molto pulite e molto soffici. Altro lavoro molto importante dell'architetto Mangiarotti è stato i giogali. I giogali sono dei ganci di vetro, che vengono, vetro chiaramente cristallo fatto a mano, uno per uno, che vengono combinati, agganciati per formare delle lampade. Quindi ancora una volta si ritorna sullo studio di questa modularità. Qui in Mostre abbiamo esposto due esempi di librerie. La libreria Cavalletto, che sono dei cavalletti che si sovrappongono, quindi potenzialmente è infinita sia in altezza che in larghezza. E l'altra libreria si chiama Out Inside, che anche lì riprende sempre il discorso dei moduli. Quindi sono come dei quadrati che si ripetono nella loro infinità. All'inizio degli anni Ottanta l'architetto Mangiarotti affianca l'attività di architetto e designer, quella della scultura. Sono numerose infatti le sculture che lui realizza sia in spazi aperti, quindi grandi sculture all'esterno, ma anche sculture più piccole. In Mostre abbiamo delle bellissime lavorazioni di marmo, ma anche pietra, alabastro e onice. Quindi sempre questa costante, incessante ricerca sulla materia, sulle differenze tra un materiale rispetto a un altro.